www.venezia.it Facciamo un attimo di punto della situazione, in questo momento un attimino di pausa per il lancio nero-verdi dopo un periodo ricco di test e di nuovi acquisti per andare a colmare tutte quelle lacune e formarsi dopo l'addio dei giocatori che erano arrivati in prestito per la Serie A. Ovviamente prima di cominciare l'invito è sempre quello, iscrivetevi al canale se vi piace il nostro modo di fare informazione e più cliccate e fate interazioni con i video sul Venezia più i nostri video sul Venezia fanno parlare e si parla di Venezia su questa piattaforma. Ovviamente visto che è una squadra che non è particolarmente seguita e se ci supportate ci date la spinta per poterne continuare a parlare anche in futuro visto che insomma è la nostra squadra e vogliamo tutti che il brand, il nome e soprattutto l'interesse intorno a Venezia aumenti. Ovviamente tenendo conto del fatto che servono anche i risultati sportivi per accendere l'entusiasmo sperando che questa Serie B ce ne regali qualcuno di positivo. Se siete già iscritti al canale ovviamente ricordatevi il mi piace e lo spazio commenti come sempre qua sotto è aperto, basta usare i minimi criteri dell'educazione poi si può esprimere qualunque opinione anche completamente opposta alla mia. Detto questo, iniziamo un po' a fare un bilancio della situazione calcolando che come aveva un po' preannunciato il Venezia non intende vendere chiunque, sia sceso con la squadra dalla Serie A. Hanno rinnovato il contratto Ceccaroni, Cernigoi e Ciano Apps, tre elementi fondamentali che l'anno scorso sono nella massima categoria e che continueranno a far parte dello zoccolo duro del Venezia. Quella, diciamo, la notizia più forse inaspettata oltre confine, intendo oltre i confini del Triveneto è probabilmente la permanenza con il rinnovo di Ciano Apps, ma come avevo sempre detto la società voleva fortemente ripartire da lui sulla corsia di sinistra. E' un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, talvolta è stato un po' impalpabile, ma partite completamente insufficienti non ha quasi sostanzialmente mai fatte. E' un giocatore come lui, ben mentalizzato per la catetteria, è veramente, diciamo, un fuori quota, calcolando che ha un'esperienza lunghissima in ere divisie, dove ha giocato tante partite di calibro anche internazionale. Quindi, cioè, per una serie B, dove sì, c'è tanta cosa, c'è tanto antagonismo, ma il tasso tecnico magari è inferiore, è veramente una conferma molto importante e rilevante per lo scacchiere di Javorcic. Forse più scontatti, ma altrettanto importanti, anche prolungamenti pluriennali di Cercaroni e Cernigoi, con Apps e Cernigoi che hanno firmato fino al 2026 e Cercaroni che addirittura ha firmato fino al 2027. Penso che l'idea del Venezia sia di fare di Cercaroni il suo nuovo modulo, la sua nuova bandiera. Tant'è che, a seconda poi dei problemi fisici di modulo che speriamo abbia risolto, perché sarebbe importante averlo a pieno regime in catetteria, ma non lo so perché ne ha avuti veramente tanti, Cercaroni è il capitano, è l'uomo simbolo e ha fatto benissimo due anni fa, cioè, ha fatto sempre bene nel suo percorso in serie B, tranne quei primi sei mesi con Dionisi che lo schierava a terzino sinistro. In A ha fatto bene al netto comunque alcune difficoltà che hanno coinvolto nel compresso tutta la squadra, e anche Cercaroni è un giocatore che, motivato e mentalizzato nel modo giusto, è fuori scala per una catetteria, così come lo è Cernigoi. Cernigoi, mezzala che ha un fisico non facilmente riscontrabile in altre squadre, in altri giocatori delle altre squadre di serie B, si è distinto anche in A. Ma i mezzi di questi tre ragazzi sono di una categoria superiore, sostanzialmente il Venezia ha fatto uno sforzo per cercare di venire incontro alle richieste di tutte le parti, e di confermarle anche per questa serie B, perché l'intenzione è sì di rinnovare, ma anche di confermare una squadra elettro che ti permetta di benfigurare, perché sì, magari la promozione non arriverà già quest'anno, perché quest'anno di squadre grosse ce ne sono tante, però comunque il Venezia, già in questa stagione, vuole dire la sua, vuole confermarsi ad alti livelli in cateteria, e quindi credo che i play-off siano l'obiettivo minimo, cioè l'ottavo posto è l'obiettivo minimo, quindi ti servono un certo tipo di giocatori. Per quanto riguarda il puro mercato, sempre in ottica rinnovi, attenzione alla situazione di Gianluca Busio, che dopo tanto vociferare su queste benedette clausole che gli permetterebbero di liberarsi a costo zero, potrebbe invece addirittura vedere rinnovato il suo contratto e quindi aprire le porte a una clamorosa permanenza in serie B, che era inaspettata visti i rumors di inizio mercato, ma che come vi ho detto e scritto ultimamente, qualcosa è cambiato. C'è la volontà di farlo sentire importante nel progetto e quindi di andare a modificare l'accordo in modo che lui sia soddisfatto anche senza queste clausole. ergo attenzione a quello a Spondari, detto che comunque a differenza degli altri tre lui non è ancora ufficiale, può succedere ancora di tutto, può arrivare un'offerta importante dal Sassuolo, può arrivare un'offerta importante dall'estero, magari il ragazzo cambia idea e se ne va. Non lo sappiamo, certo è che la permanenza di Busio purtroppo a livello monetario e di slot va un po' ad escludere una permanenza di Cuisans, che infatti dopo che è cambiata un po' l'aria intorno a Gianluca, si è distaccato, tra virgolette, dal gruppo, nel senso che prima ha sfruttato un permesso, un permesso che non sta finendo, tant'è che il ragazzo non è ancora a Doronze, si sta allenando da solo. Ora, la società in prima battuta ha smentito, in seconda battuta l'ufficio stampa non ci ha saputo dire, insomma, la scadenza di questo permesso, c'è un permesso, è facile intuire che ci possa essere, ripeto però, siamo nell'ambito delle speculazioni, non c'è nulla di ufficiale, ci possa essere il calciomercato dietro anche perché con Busio, Cernigoi, lo stesso Fjordilino che potrebbe restare, l'arrivo di Kofod Andersen, lo spazio per un Cuisans va a ridursi e Cuisans credo che in una Serie B voglia quantomeno essere un titolare fisso. E con tutte queste permanenze garantirgli un toto di spazio potrebbe essere un po' complesso perché probabilmente Busio e Cernigoi partirebbero davanti a lui nelle gerarchie e nel ruolo di play puro probabilmente non è molto a suo agio. Ergo, attenzione, c'è l'interessamento del Torino non ai 6 milioni vociferati, come vi avevo anticipato, sembra che la richiesta del Venezia sia di 6-7 milioni di euro per mettere a bilancio una plusvalenza di un certo calibro. Ricordo, Transfermarkt ha segnato l'acquisto di parte del Venezia di Cuisans a 4 milioni e di solito Transfermarkt segna le fonti più affidabili. Mettendo anche che è stato magari pagato 5, a 6-7 inizia a fare una plusvalenza di un certo tipo, sotto diventa una vendita in pari che al Venezia serve relativamente, a meno di non fare come Henry, ovvero mettendo delle clausole sulla futura rivendita come fatto per Tomà, che è venuta a 5, più o meno con l'ammortamento quanto hai speso per acquistarlo e con un 40% però sulla futura rivendita che ti garantisce la futura plusvalenza. Questa è la novità di mercato più rilevante, detto che in entrata invece fino a quando non ci saranno le cessioni ormai, quasi cosa certa per Vacca, che stanno per volare in Arabia. E probabilmente anche di Aramu non arriveranno nuovi innesti perché il Venezia sta cercando di, oltre che acquistare, anche dare un senso numerico alla sua rosa, che è abbastanza folta adesso, cioè in attacco con la permanenza di Aramu sei al completo, a centro campo con la permanenza di Cuisans e Vacca sei al completo, quindi prima bisogna far partire qualcuno e poi eventualmente possono arrivare altri giocatori. Detto che il mercato delle punte, di quelle che piacciono ai tifosi, quelle che infiammano agli animi, sta iniziando ad assottigliarsi perché comunque Mancuso, che era un nome di quelli che fanno sognare, ha un ingaggio molto molto elevato e in Serie B solo il Como è riuscito ad arrivare alle sue richieste, ovvero quella del Monza, ovvero di prendere sostanzialmente pari pari quasi lo stipendio che prendeva Inberianza. Per le altre squadre come il Bari, che comunque è un'altra società da Narosa, non è stato possibile. Nomi comunque ce ne sono ancora, potrebbe anche arrivare un fantasista che non c'è entra avanti perché agli Avorsic piacciono un certo tipo di giocatori e non è detto che gli serva la super punta, la 30 gol, ma è chiaro che se ci fosse ci sentiremo tutti un po' più tranquilli. Quindi per il resto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e per questo riassunto della settimana, un saluto e ci vediamo con gli altri contenuti che vi propongo nei fuori campo. Ciao!